Nessuno ne parla, anche se i cuori torresini battono fortissimo, l'idea che già domani, al termine della gara contro l'Isola Liri, formazione appena fuori dalla zona play-out, si possa festeggiare il ritorno nei campionati professionistici. Dovrebbe verificarsi ciò che è accaduto una settimana fa a Torre del Greco, un'altra giornata perfetta per la Torres, vittoria e sconfitta dalle avversarie. Nessuno ne parla, ma l'attesa è già euforia quando alla fine del campionato mancano tre turni e le inseguitrici sono ora distanziate le cinque lunghezze. Il portiere rosso-blu, Antonio Secchi, è stato uno dei protagonisti delle ultime gare ad alto rischio. Prima vinciamo, meglio è, sappiamo tutti che non si sa mai, perché poi andremo a affrontare due squadre in piena notte per la salvezza, quindi speriamo di chiudere già domenica senza soffrire ancora, diciamo. È stata un po' la prova del 9 per me, perché è stato un campionato strano, dove non sono quasi mai stato decisivo, dove non ho mai fatto errori. È stato un campionato sufficiente, diciamo, in queste ultime due partite c'è stato bisogno del mio apporto e non credo di essere mancato. Nella settimana assegnata da una collettiva presa di coscienza di un traguardo ormai vicino e mai così agognato, per gli uomini di Mister Bacere l'allenamento più duro è stato quello di tenere a freno l'entusiasmo. Giovedì partitella a ranghi misti, con tutti gli effettivi a disposizione contro l'Isola Liri, rientrerà dalla squalifica anche Angheleddu. Venerdì è stata la giornata dedicata allo svago, con un passaggio tra le giostre del Matalan di Piazza Lessegni. Ma qual è l'ingrediente vincente di questo gruppo? L'umiltà, l'umiltà dei ragazzi, l'umiltà di tutti, siamo messi in gioco sin dal primo giorno, niente, solo questo. Dirigerà Torres Isola Liri, con fischio d'inizio alle ore 15, il signor Simone Serani della sezione di Monza.